La domenica qui è una cosa impressionante, c'è la file delle macchine. Troppe auto e traffico in una strada molto stretta dove rischiano di crearsi situazioni pericolose. Continua la protesta dei residenti di Sassogna di Fano per la chiusura nel weekend del tratto finale di Viale Cesare Battisti che collega Viale Adriatico a Viale Dante Alighieri all'altezza dell'anfiteatro Rastat. Le transenne su Viale Cesare Battisti sono state posizionate dal comune per impedire l'accesso ai veicoli concedendo così ai ristoratori di poter lavorare all'esterno dato il periodo buio passato a causa dell'emergenza sanitaria. E ci troviamo nella parallela di Viale Cesare Battisti, zona che nel weekend viene invasa dal traffico, cosa che non piace affatto ai residenti. Non riusciamo proprio a capire come si possa convogliare tutto il traffico di Viale Cesare Battisti in una strada così stretta, probabilmente la più stretta di tutto Viale Adriatico. Qui è pericoloso soprattutto perché siamo tutte persone, tutte famiglie con bambini piccoli, quindi anche quando scendiamo dobbiamo stare super attenti perché ci sono file di auto continue che passano anche a velocità sostenute nonostante la via sia corta, senza poi parlare dei parcheggi che a volte fanno anche in maniera un pochino selvaggia e spesso ci troviamo anche le auto rovinate. Ogni settimana trovo una riga nuova come regalo. Ci sono anche anziani che si recano nel supermercato qua a piedi, è trafficata di persone che passeggiano per andare a fare la spesa e quindi si trovano spesso a dover schivare sia le buche che le macchine che passano. Questo non è un problema solo per noi ma anche per la gente che fa la fila nei locali quando il fine settimana l'altra strada principale viene chiusa, qua è un delirio. La strada attualmente viene chiusa con delle transenne il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 18 alle 24. Abbiamo fatto numerose segnalazioni al comune, hanno spiegato i residenti. Noi capiamo le esigenze di attività e locali ma la situazione è pericolosa ed invivibile per noi. Anche con la pioggia, quando magari i tavoli all'aperto non servivano ai ristoranti, ha evidenziato Michele, via le Cesare Battisti è rimasto comunque chiuso. Alle 24 poi comunque non viene riaperta subito questa strada, cioè ci deve essere qualcuno che lo va a aprire, se no continuano anche mezzanotte le 1, le 1 e mezzo a girare in questo viottolo quando c'è qualcuno che con la finestra sotto, sopra la strada, dorme, vorrebbe dormire più che altro. Poi i tombini passano sopra le macchine, fanno un casino della dosca. Ecco, che cosa proponete magari, non so, la chiusura di questa strada per convogliare il traffico da un'altra parte? Per lo meno, quando chiudono quell'altra, di chiudere anche questa, in queste ore dalle 18 alle 24, magari un po' di macchine gireranno nelle vie a seguire che sono un po' più larghe, oppure bisogna studiare una cosa diversa.